Per combattere la pandemia e aumentare il numero di posti letto disponibili è stata molto importante in questi anni la collaborazione tra la sanità pubblica e la sanità privata. L'Aiop è pronta a presentare il suo bilancio sociale che nei numeri risente di queste difficoltà. Il presidente Averardo Orta fa il punto della situazione ai nostri microfoni. Sentiamo Marco Rossi. Sostenibilità sociale, economica e ambientale sono queste le tre parole d'ordine del bilancio sociale di Aiop, l'associazione dell'ospedalità privata che è pronta a fare il punto sull'anno che si sta per chiudere alle prese ancora una volta con le gravissime difficoltà dovute alla pandemia. Fondamentale per rispondere alle esigenze dei cittadini è stata la collaborazione con la sanità pubblica. In questi quasi due anni abbiamo dovuto studiare nuove forme di collaborazione, siamo stati più veloci di prima, più reattivi di prima, più capaci di prima di innovare e di cambiare quelle che erano le nostre abitudini. E quindi io credo che usciremo da questa difficilissima prova con un sistema sanitario metropolitano ancora più coeso, ancora più forte, ancora più capace di assolvere le richieste dei cittadini. Ci racconta in sintesi alcuni numeri che presenterete nel corso dell'iniziativa della prossima settimana? Certamente alcuni numeri sono ovviamente negativi nel senso che l'impatto della pandemia sui bilanci delle nostre istituzioni è stato veramente drammatico ma io vorrei concentrarmi di più sui numeri positivi. Noi nel massimo picco che si è raggiunto a marzo di quest'anno con 1400 pazienti ricoverati simultaneamente nel territorio metropolitano abbiamo messo a disposizione come IOP 1000 posti letto, 600 dedicati a pazienti covid acuti e subacuti e 400 dedicati a pazienti che avevano necessità di eseguire prestazioni indifferibili. Da questi quasi due anni di convivenza forzata col covid è arrivato in qualche modo anche un insegnamento. Abbiamo imparato che noi facciamo parte di un organismo, la società è un organismo di cui noi siamo cellule. Se non seguiamo responsabilmente quello che ci viene indicato per cui distanziamento, mascherine, lavaggio delle mani e vaccinazione soprattutto, ci troveremo di nuovo ad affrontare delle restrizioni durissime per l'economia, per la vita dei cittadini e gli ospedali si troveranno di nuovo a fronteggiare un carico che passati quasi due anni diventa sempre più insostenibile.